Il mio mouse, ma il Final Ergo 2 o il G-Pro? Il G-Pro ti consiglio di comprargli gli skates. Ah, ci ha trovato. Come andrei a mezzo? Te l'ho chiesto o perché hai fatto la sub? Te l'ho chiesto, bro. Grazie per l'errore. Come faccio? La terra è sempre perfetta, ogni spot. I COD sono tutti uguali? No, non è vero che i COD sono tutti uguali. Non è proprio vera questa cosa che hai detto. Eh? Oh, è mori però. Stavo a panicare a un certo punto. Stavo a panicare a un certo punto. Sono visto che non voleva morire. Wow. Wow. Oh no. Grazie a tutti. 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 Qual è il team più forte italiano se non ci sono tornei, non ci sono eventi, non c'è niente. Quale si ritiene affidabile e viene a formarsi con la propria... Porca puttana troia. Che palle. Mentre stavo leggendo la chat... Allora stavo dicendo .eSport è un buon sito. Sicuramente se vuoi informarti. Dexerto abbastanza. Poi ce ne stanno molti eSport Hub, ce ne sono abbastanza. Non so cosa sia la laurea in videogiochi del Vigamus Academy. C'è già il datamine. E muori bastardo. Infame. Lercio. Lercio. Loido. Ora ce li dire perché ho fatto la sub. Peccato che ci prendiamo del danno diciamo un pochino inutile. Però vabbè questi cazzi. Più di niente. è alpsare. Le clai. Grazie a tutti. Oh merda. 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 Let's go. Let's go. Let's go boys. Let's go. Let's go.